Cerchiamo di capire, quindi vediamo il simbolismo, come utilizzare il simbolismo nella seduzione. Allora, quando incontriamo una persona, fondamentalmente quindi dobbiamo capire il simbolismo è legato all'imprinting, fondamentalmente. Dobbiamo capire qual è il suo imprinting, come abbiamo detto, perché se voglio sedurre devo capire qual è l'imprinting della persona, perché ovviamente attraverso il simbolismo possiamo andare a stimolare, possiamo andare a sviluppare, diciamo, amplificare i turbamenti. Ricordiamoci che l'amplificazione dei turbamenti è quella che ci interessa nella seduzione. Allora, come faccio a... intanto salutiamo anche Leonora, Cristian, Cristina, come faccio a fare tutto questo? Allora, io incontro una persona e devo subito iniziare a capire questi parametri di cui abbiamo detto, quindi qual è il suo simbolo alimentatore, che sarebbe ciò che governa la sua esistenza, qual è il suo simbolo stimolatore, ciò che stimola, diciamo, la sfera logico-razionale. C'è un altro simbolo che non abbiamo ancora trattato, che è importante, che è il simbolo gratificante. Poi andremo a vedere qual è il simbolo gratificante, ma lo vediamo in un secondo tempo, perché oltre al simbolo stimolante c'è anche un simbolo gratificante. E poi un'altra cosa che è molto importante capire, se è emotivo, se è iperlogico, e se si aggancia sul desiderio, se aggancia sul possesso. Ecco, questi sono i parametri fondamentali dell'imprinting della persona che deve andare a riconoscere. Perché poi c'è il simbolo gratificante, ma il simbolo gratificante non fa più parte dell'imprinting, ma è quel tipo di comportamento che piace alla sfera logico-razionale. Vedremo come si calcola, perché fa sempre parte di un'equazione, anche il simbolo gratificante, ma questo lo vedremo alla prossima volta. Ora, io non ritorno più sulle tabelle, perché ovviamente ci sono tutte le tabelle di cui avete, che magari avete studiato, poi più avanti vedremo anche di fare un po' un'interrogazione per vedere se avete studiato o se, come al solito, non sapete un cazzo. Ma lo vedremo questo un'altra volta, perché tanto adesso non ha senso appesantire troppo questa lezione, è una lezione un po' di recupero, cioè di recupero una lezione un po' più pratica, quindi non voglio farla pesante con calcoli e tutto, ma avremo tempo ancora per approfondire, diciamo così, i calcoli e queste cose qua. Abbiamo visto la volta scorsa anche i registi, l'adulto significativo, il registro, insomma, abbiamo visto un po' di cose, ma le riprenderemo tranquillamente. Le riprenderemo tranquillamente, oggi voglio fare una lezione un po' più leggera, voglio fare una lezione un po' più leggera per, diciamo, una lezione un po' più leggera semplicemente per essere più tranquilli, insomma. Allora, senza andare in giro con la tabella, ricordo che le tabelle, poi io so che le onoresse, carampana di un'eleonoresse, giramele anche a me, che almeno do un'occhiata a quelle cose che mandi in giro, chiedo a eleonoresse, cortesemente, giramele anche a me, o magari posso entrare anch'io, posso entrare anch'io magari su quella chat, se mi dici come sei sulla chat, vediamo un telegram e le onoresse. Allora, se mi accetti, entro anch'io su telegram, così vedo che cazzo diffondo in giro. Allora, posso entrare? Telegram e leonoresse, come telegram e leonoresse, vediamo un po'. Eleonoresse. Underscore. S. Vai, non ti trovo, leonoresse, non trovo. Perché non ti trovo? Non ti trovo, leonoresse. Ah, ok, inseriscimi tu in chat, ok, mi inserisci tu in chat, ok, inserisci tu in chat, ok, inserisci tu in chat, ah, mi hai aggiunto? Ah, io non ti vedo, dove cazzo sei? Mi hai aggiunto, ma dove? Andiamo un po', ah, ai studenti, ok. Ah, ok, bene, carino, carino, bravo, bravo, l'onoresse. Bravo, bravo. Questo è interessante, bravo e leonoresse. Allora, bene, comunque, quindi cerchiamo di capire tutti quegli schemi che ha fatto leonoresse, che avete visto, insomma, che vi ha inviato, sono utili, però non è che uno può andare in giro con lo schema, no? Quando volete sedurre qualcuno, interagite con qualcuno, non è che uno può andare in giro con la tabella e dire fai un po' vedere tu chi sei e anche ricordarsi a memoria tutte le cose può essere complicato, no? Per carità è molto importante studiarli, è molto importante capire, però è ovvio che, diciamo, è ovvio che diventa poi più complicato. Però, e leonoresse ha fatto, ha fatto un buonissimo lavoro, quindi bravi leonoresse, l'ha fatto due tabelline interessanti, bravi leonoresse. E allora, e adesso però vediamo come capirlo un po' più in modo, diciamo, diretto. Allora, come, come potete fare? Allora, voi dovete imparare intanto i tre comportamenti e dovete, Un saluto anche a Roxy Rosa e tanti auguri alla nostra Roxy Rosa che oggi compie i suoi primi 74 anni. Quindi facciamo gli auguri a Roxy Rosa che oggi compie i suoi primi 74 anni. Allora, come possiamo capire il simbolo alimentatore? Allora, il simbolo alimentatore noi possiamo capirlo, ad esempio, perché se noi abbiamo un comportamento simile al simbolo alimentatore di quella persona, la persona tenderà analogicamente a dare segnali di rifiuto, andare indietro, grattarsi, raschiare. Ora, quindi, io cosa devo fare? Devo saper gestire tutti e quattro, tutti e tre, tutti e quattro, diciamo, i comportamenti. Conflitto alle padre, conflitto alle madre, ego maschio ed ego femmina. È ovvio che, diciamo che, adesso è più difficile, però già dalla stretta di mano riesco a cogliere dei segnali. Perché adesso, purtroppo, in questo periodo non ci stringiamo più la mano, ma la stretta di mano era un buon, diciamo, un buon sistema per capire, avere qualche indicazione. Perché ovviamente le persone che tendono a darti la mano a pesce morto, in questo modo, o a infilartela dentro, proprio è il gesto di darti la mano in questo modo. Ci sono persone, non so se guardate, persone che quando ti danno la mano, la danno, fanno, non l'alzano dal basso verso l'alto, ma arrivano in questo modo. Quindi non danno, perché io tengo la mano giù, posso alzare la mano in questo modo, alzo la mano in questo modo e questo è un tipo di gestualità. E poi allungo per darti la mano. Ci sono persone che alzano in questo modo e infilano, come se ti dessero una pugnalata, ti dessero un colpo, e poi te la infilano in questo modo. Esatto, come fosse una lancia, la allungano come fosse una lancia. Questo tipo di gestualità rimanda al conflittuale padre. E non stringono tanto comunque, non è che hanno una stretta, tendono più a infilare, stringono un pochettino, perché comunque l'usanza è quella di stringere, ma non tendono a stritolarti un po' la mano, diciamo così. Quindi, tutte le persone che, diciamo, adesso poi ci arriviamo, Cristian La Sorsa, non anticipare, c'è l'Eiaculatio Precoz, Cristian. Un attimino, arriviamo anche a quello. Allora, quindi, chi fa questo gesto qua tende ad avere più una conflittualità paterna. È un'indicazione. Potrebbe essere una conflittualità paterna o eventualmente anche una ex-conflittualità paterna con, diciamo, preponderanza della ex-conflittualità. Quindi un'ego femmina però con preponderanza della conflittualità paterna. E poi abbiamo invece il contrario, che è la stretta di mano materna, che è una stretta di mano molto morbida. La persona tende a darti la mano in modo morbido, a dargli in questo, ti prende la mano in modo morbido, ti mette l'altra mano sopra. Avete visto quelle persone che ti danno la mano, poi ti mettono l'altra mano sopra in modo molto avvolgente. Questo tipo di stretta di mano è prevalentemente materna o eventualmente, diciamo, potrebbe essere anche un ego, però con prevalenza materna, dove il conflitto più forte è quello legato al conflitto con la madre. E poi ci sono gli egocentrici che invece danno la mano un po' a tenaglia, stringente, quindi tendono alcuni proprio a stritolarti la mano. Ovviamente qua dipende un po' dalla forza della persona, no? Se lo fai con l'incredibile Hulk, se l'incredibile Hulk è egocentrico, te la stritola la mano, no? Perché l'incredibile Hulk ha una forza della madonna e ti stringe la mano. Se tu lo fai con una donna che magari, che ne so, è 45 kg e non ha un muscolo, senti però la pressione, quindi non c'è un contatto col palmo, non sentirai la forza, perché forza non ce n'ha. Quindi non è che è l'incredibile Hulk che ti stritola la mano. Perché se uno è egocentrico e ha anche una notevole forza fisica, tu percepisci proprio quasi un dolore, no? Perché tende a stringere la mano, soprattutto se sei donna e quello è uomo, ti distrittola praticamente. Se invece è una donna, magari, di 45 kg, che forza non ce n'ha, non c'ha un filo di muscolo, sì che stringe, ma tu non percepisci neanche tanto la stretta. E quindi, va bene Christian, e quindi diciamo, però percepisci che non c'è un contatto pieno della mano e avviene quasi un contatto in questo modo, no? Quindi stringendo in questo modo. Anche se la forza non è tanta, non c'è un contatto con il palmo della mano. Quindi il palmo della mano resta un po' distanziato, tendono a tenere il palmo della mano un po' distanziato. Sì, fanno male quelli che hanno la forza fisica, ovviamente. Quelli che hanno la forza fisica tendono a fare male, diciamo, se sono egocentrici. Soprattutto, se anche tu sei l'incredibile Hulk, se anche tu sei l'incredibile Hulk, non ti fa male, no? Dipende un po' lì dalla forza fisica, ma è l'intenzione quella che conta. Ma se non c'è tanta forza fisica, comunque il contatto con il palmo non avviene, avviene in questo modo. Poi, allora vi do altre indicazioni, molto utili. Sempre con la stretta di mano. Allora, voi dovete provare a fare un test. Io, va bene, nei miei corsi lo faccio vedere dal vivo. Dovete provare a fare un test. Quando stringete la mano voi, provate a fare questa piccola rotazione del polso, una rotazione in questo modo, senza far braccio di ferro con l'altra persona. Non va fatto braccio di ferro con l'altra persona. Quindi, allora, dal tipo di stretta, riusciamo a capire già se una persona è conflittuale madre, conflittuale padre o conflittuale egocentrico. Insomma, abbiamo già una prima indicazione. Non è che quello dalla sette di mano deduco tutto, ma ho già delle indicazioni. Poi, proviamo a fare un test. Proviamo, come diceva prima il nostro Cristiano Assorza, a fare un piccolo giro del polso in questo modo. In modo tale che tendiamo a mettere la mano dell'altra persona in posizione col palmo verso l'alto. Io do la mano, faccio questo movimento, ma senza mettere forza. Anche qua, se sono l'incredibile Hulk, sfondo chiunque. Non è che devo fare una prova di forza per vedere che io sono più forte e che metto la mano e che l'altra persona finisce con la mano così. Perché ovvio che se un uomo di 100 kg, bodybuilder, è una donna di 40 kg, che l'unica cosa che alza, diciamo, è l'ago da cucire da un grammo, è ovvio che quello non è che fa così, che gli piace o che non gli piace, a quella si trova con la mano girata così. Sì, ma non è questo il concetto, non è una prova di forza. Quindi io devo mettere un grammo di forza, sia che sia uno forzuto, sia che sia uno a siga, devo mettere un grammo di forza. Perché? Cazzo è successo? Perché l'obiettivo non è fare una prova di forza, l'obiettivo è vedere se l'altra persona oppone o no a resistenza. Quindi se io metto un grammo di forza, perché la cultura ci ha insegnato che la mano va data dritta, quindi difficilmente, poi ci sono persone che ti danno già direttamente la mano così, o già direttamente la mano così. Ecco, diciamo questo, che la mano verso, col palmo verso l'alto, tendenzialmente la danno le persone che si agganciano sul desiderio, mentre, quindi con polarità desiderio, mentre le persone che danno la mano in questo modo, col palmo rivolto verso il basso, tendenzialmente sono persone che si agganciano sulla modalità possesso. Però c'è un fatto culturale che ci ha insegnato che la mano si dà dritta, quindi può darsi che la maggior parte delle persone, indipendentemente dal fatto che siano desiderio o possesso, tendono a dare la mano dritta. Però se io metto un grammo di forza, un grammo proprio di forza, tutte le persone, tutte le persone che sono legate al desiderio, cedono tranquillamente, non devo fare braccio di ferro, e si ritroveranno con la mano, col palmo rivolto verso l'alto, senza che io abbia messo forza. Ripeto, non devo fare braccio di ferro e dimostrare che sono più forte dell'alto, metto un grammo di forza e vedo se dall'altra parte c'è resistenza o meno. Se dall'altra parte c'è resistenza, cioè l'altra persona resiste, oppure addirittura cerca di controbilanciare la mia forza in qualche modo, ma ripeto, sono movimenti impercettibili, questo sia chiaro, perché poi spesso a me capita che le persone, io quando faccio le prove nei corsi, io faccio la cave, ci sono persone che cercano con la forza di girarmi. È ovvio che se fai così, cioè no, deve essere proprio una cosa impercettibile, in modo tale da, come dire, andare a disinnescare quel fattore culturale che è legato al tenerla dritta, e se la persona, diciamo, cede tranquillamente, significa che si aggancia sul desiderio, se resiste, tendenzialmente si aggancia sul possesso. Ma se aggredisce verbalmente non c'entra niente, cioè l'aggressione verbale non è quel parametro lì, se si asce girare, l'aggressione verbale non è un parametro, l'aggressione verbale non c'entra, non è che chi si aggancia sul possesso aggredisce, chi si aggancia sul desiderio non aggredisce, possono aggredire entrambi in modalità diverse, ma questa non è un'indicazione, come dire, confronto mele con pere. Perché succede? Ah, succede per questo motivo. La domanda invece di Rox è intelligente. Perché succede? Perché, allora, essere col palmo verso l'alto significa, avete presente i cagnolini quando incontrano qualcuno, il cane sottomesso incontra il cane dominante, cosa fa il cane sottomesso? Si mette a pancia all'aria. Cioè, una volta vedevo una cagnetta che, diciamo, era, credo, un, come si chiama lì? Quei cani, no, Golden Retriever, quei canetti piccoli, Yorkshire, uno Yorkshire, che ogni volta che vedeva chiunque, anche se vedeva un chihuahua, si metteva sempre a zampe all'aria, a pancia all'aria. Se vedeva un essere umano, un chihuahua o un alano, non importa, è sempre a pancia all'aria. Perché vuol dire che vuole mettersi in posizione di sottomissione. Quindi il palmo della mano verso l'alto vuol dire, tra virgolette, sottomissione analogica, non logica. Quindi potrebbe, come dice Christian, aggredire verbalmente. Ma l'aggressione verbale, tra virgolette, è un fatto logico, non è un fatto analogico. Anzi, le persone che si agganciano sul desiderio normalmente sono analogicamente passivi e logicamente attivi. Il che significa che a parole, che a parole, possono anche aggredire verbalmente, ma poi nei fatti amano chi li sottomette un po'. E quindi le persone che si agganciano sul desiderio tendono un po' analogicamente ad essere sottomessi. Soprattutto anche se hanno una struttura emotiva. Gli iperlogici già un po' meno. Però, cioè, gli iperlogici perché mettono un freno logico-razionale. Ma qua andiamo a testare quelle che sono le caratteristiche emotive, non le caratteristiche logico-razionali. E quindi diciamo questo, che se una persona, quindi, diciamo, la mano verso l'alto risponde un po' al cagnolino che si mette a pancia all'aria, diciamo così. Invece il palmo verso il basso, in questo modo, la persona che ti gira la mano in questo modo, quella tende ad essere una persona dominante, una persona che ti vuole dominare. E questa è la differenza, no? Quindi dominare da un punto di vista analogico. Non è detto che la dominazione avvenga anche da un punto di vista logico-razionale. Ecco, quindi, questa è un'altra indicazione che ci fa capire, quindi, attraverso semplicemente la stretta di mano, noi già possiamo capire il simbolo alimentatore e il desiderio e il possesso. Ovviamente, come direbbe la nostra Eleonora S., se io capisco questi due simboli, e adesso andatevi a vedere la tabella voi, potrete già ricavarvi il terzo simbolo, no? Qual è il simbolo stimolatore? Più o meno, diciamo così, no? Potreste avere un'indicazione. Già, certo, non avete magari l'indicazione precisa, ma già potete farvi un'idea anche del simbolo stimolatore, che poi andremo a vedere come, diciamo, coglierlo. Ora, un'altra indicazione utile è capire se la persona è emotiva o iperlogica. Qua possiamo anche scoprirlo a livello non verbale, no? Tenendo presente questo fatto che gli iperlogici sono molto sospettosi, tendono a vivere dei sospetti, e quindi vogliono avere tutto sotto controllo la persona iperlogica. La persona iperlogica si aggancia quando ha tutto sotto controllo e si muove e agisce per avere tutto sotto controllo. Mentre la persona emotiva, invece, no, la persona emotiva non vuole avere un Kaiser sotto controllo, vuole che tutto sia misterioso, non so dove devo andare, non so cosa devo fare. Ecco, quindi questa è la persona emotiva. Allora, no, no, oggi niente interrogazioni, eroxirosa. Oggi è una lezione un po' più pratica, perché mi rendo conto che vi ho dato molte nozioni teoriche, quindi prima di introdurre altre nozioni teoriche, in modo tale che voi abbiate più tempo per assimilare, tanto poi alla fine va più la pratica della grammatica, se vogliamo, no? Nel senso che poi alla fine, da un punto di vista pratico, nessuno va in giro con la tabella e dire, scusa, fammi un po' vedere, fammi un po' vedere questa cosa qua e non fammi vedere. Ebbè, io mi innervosisco perché tu non sei emotivo, l'onoresse, ma tu, l'onoresse, rompi coglioni come sei, non sei emotivo. Ecco, ad esempio, l'onoresse è la tipica rompicazzo, no? Che c'è sempre una puntigliosa, se ritardi cinque minuti ti caga il cazzo perché hai ritardato cinque minuti, se una volta salti la lezione perché ti è caduto l'asteroide sulla casa, ti rompe la minchia, eh, ma hai salto la lezione, eh, ma qua, ma là, è una rompicoglioni, no, l'onoresse, diciamo così. E una rompicoglioni come l'onoresse non può essere emotiva, non può essere emotiva, si pone anche sempre in modo simmetrico, cagacazzo, quindi è evidentemente una iperlogica. La parte emotiva, esatto, attenzione, la metteremo in riga, metteremo in riga Roxy Rosa. Quindi, ad esempio, una come l'onoresse non è che ci vuole uno scienziato, si capisce subito che è una, che è una iperlogica. Poi vedete com'è tignosa, no? Com'è precisa, ha fatto tutti gli schemi, ma secondo voi, gli schemi che sono belli, e comunque io la ringrazio, è l'onoresse di aver fatto tutti quegli schemi, ma, eh, secondo voi, eh, userò la tua presentazione per il tuo marito, esatto, secondo voi, una persona emotiva si mette a fare tutti quegli schemi che ha fatto l'onoresse? Cioè, seppur schemi che ha rifatto, no? Comunque, diciamo, ha ricopiato tutti gli schemi, li ha messi in bella, li ha fatto, questa è una cosa tipica da iperlogico, ma iper, iperlogico, come iper, iper, no? Un emotivo fa il contrario, un emotivo non ha mai, non avrebbe mai un comportamento del genere, quindi tenete presente che i rompicoglioni sono, diciamo, sono, ad esempio, sono iperlogici, no? Adesso io non so che lavoro fa e l'onore a esse, non so che lavoro fa e l'onore a esse, ma normalmente sono anche lavori diversi, proprio, ad esempio un ingegnere, per fare un esempio, ma difficilmente che se uno fa l'ingegnere, o studia ingegneria, per dire, o le materie scientifiche, potrebbero esserci anche, diciamo, potrebbero esserci anche, per dire ingegnere emotivi, sicuramente, dipende, però qua parliamo un po' di statistica, ma in un certo senso anche il tipo di professione che una persona fa ci dà l'indicazione. Ad esempio, anche Christian Lasorsa, no? Ovviamente anche lui rompicoglioni, un po' come Eleonore Ayssen, un po' meno rompicoglioni, ma caga cazzo pure lui, e ha sempre comportamenti simmetrici, no? Se voi vedete una qualunque chat dove c'è Christian Lasorsa, rompe il cazzo a tutti, a tutte le persone nella chat, prima o poi rompe il cazzo, no? Si mette sempre in modo simmetrico, perché è una caratteristica delle persone iperlogiche quello di mettersi in modo simmetrico. Quindi anche Christian tendenzialmente, diciamo, tendenzialmente ha un comportamento fortemente iperlogico, perché poi anche qua, diciamo così, che è ovvio che i comportamenti più marcati si conoscono subito, no? I comportamenti più marcati si percepiscono subito, perché diciamo che noi siamo un cappuccino, no? Quindi siamo sempre un cappuccino, non è che siamo uno totalmente iperlogico, uno totalmente emotivo. Più la cosa è mixata, più è facile. Ma anch'io, ad esempio, ho un comportamento tipico dei perlogico. Se una persona dicesse di me, conoscendomi, interagendo con me, dicesse di me che io sono una persona emotiva, beh, vuol dire che non ha capito una minchia, perché anch'io sono fortemente iperlogico. Non ai livelli di Eleonora S, perché non sono cagacazzo come Eleonora S o come Christian. Però diciamo che sono iperlogico anch'io. Beh, la persona emotiva, l'icona della persona emotiva, è una persona un po' con la testa tra le nuvole. L'icona, diciamo, della Walt Disney è Pippo, Pippo della Walt Disney, no? La persona emotiva è Pippo della Walt Disney, mentre la persona iperlogica è Topolino della Walt Disney, sempre. Una coppia iperlogica è, non so, cinematografica Don Camillo e Peppone, non so se l'avete visto, oppure, come si chiamano quei due? Sandra Mondainer e Mondovianello, no? Pace all'anima loro. Stella Marina, no, è iperlogica, anche Stella Marina, meno, ma anche Stella Marina un po' si mette, reagisce. Prova a dire qualcosa a Stella Marina, Stella Marina regisce anche. Le persone iperlogica, ecco, voi volete capire che una persona è iperlogica emotiva? Provate a provocarla un pochettino. La persona emotiva tenderà a sfuggire alla provocazione, mentre la persona iperlogica si aggancia sulla provocazione, no? La persona iperlogica si aggancia sulla provocazione, ci va a nozze, inizia, se tu la provochi, quella parte, parte in quarta, no? Quindi, beh, Paperino, ad esempio, Paperino probabilmente è più emotivo, Paperino, Pippo, lo zio Paperone è un altro super iperlogico, lo zio Paperone. E perché gli iperlogici possono anche avere dei pensieri maniacali, e comunque, perché possono avere delle ossessioni. Le ossessioni ci hanno più gli iperlogici degli emotivi. Poi vedremo il DOC e il DOP, no? Distorbo se sia o compulsivo o se sia o persecutore. Ma in realtà, diciamo, gli iperlogici, tipo lo zio Paperone, no? Vi ricordate che aveva la moneta, la numero uno, a vasta superstizione, quando perdeva la moneta numero uno, lì andava in paranoia, no? Quindi, comunque, queste sono più o meno le cose. Ma, la prossima volta approfondiremo questo discorso, faremo un paio di lezioni ancora, diciamo, su queste tematiche, prima di mettere altre cose, poi passare ad altro, perché dei argomenti ce n'è, quindi, quindi, per adesso esercitatevi nelle sette di mano, se potete farle, esercitatevi nei comportamenti, esercitatevi un pochettino, e poi, la prossima volta, andiamo avanti. Andiamo avanti con queste cose qua, che penso sono più leggere, diciamo, però sono molto utili per capire. Bene, eh...